Detto fatto è arrivato il pacchettino di nuvole blu quindi lo spacchettiamo velocemente insieme eccolo qua c'è scritto come al solito grazie Laura apro e ci sono come al solito il bigliettino e la cartolina con scritto ancora ciao cara Laura grazie per il tuo nuovo ordine e per la fiducia verso nuvole blu spero che anche questa volta il pacchetto potrà piacerti ti invio un caro saluto bacioni Elisa molto molto carina anche questa volta apriamo come al solito tutto super carino dai bellissimo ancora tutti impacchettati adoro tutti impacchettati uno per uno questo mi sa che è il pacchettino dei tangenzini andiamo subito a vederli questa volta le ho detto le ho lasciato scritto il mio tipo di pelle capelli quindi dovrebbe avermi dato delle cose un po' più indicate visto che l'altra volta mi era andato un po' male infatti My Age Matte Oily Skin della Purofi perfetto il Blemish Contour Skin Solution questo è il tonico mi sa si è il tonico quello che ho anch'io che non mi dispiace questo è un Fine Line Minimizing Fluid Normal and Combination Skin della Madara perfetto poi abbiamo un Contorno Occhi della Madara meraviglioso poi abbiamo un Biobalsamo Moringa Limone Volumizzante e Districante e Districante della Saponaria due perfettissimi abbiamo lo shampoo Lavando Eucalipto capelli normali grassi meravigliosa e poi lo shampoo dell'Alchemilla volumizzante questo volevo proprio provarlo fantastico bravissima Elisa stavolta ha zeccatissimi campioncini gli ha messo dentro anche due caramelline le rossana che carine e poi gli ha messo uno scrub viso della Mossa Skin Solution nella giarettina e questo lo proverò con molto piacere allora cosa troviamo qua spacchettiamo il primo spacchettino ecco questo è un prodotto che ho trovato super scontato che avevo proprio la curiosità di provare è una mousse detergente di questa marca stranissima che non avevo mai sentito a flame boh mousse detergente questa è proprio per le pelli grasse questa qui verde e vedremo dentro è un liquido vedete proprio molto liquida però secondo me shakerandola fa la schiuma proveremo poi ecco quest'altro quest'altra è la mousse corpo al mango dell'anakomi snellente anche questa era super scontata quindi ho colto l'occasione per provarla poi ho preso che mi incuriosiva molto il sapone della ecco sapone della sazza sop ed è una saponetta al carbone vegetale ed ha questa forma stranissima non so se riuscite ad apprezzare ma ha questa forma che sembra tipo un meteorite fighissima sembra un sasso tipo quindi va bene e poi dolce sinfondo eccolo qua dolce sinfondo lui e cioè la pochettina lei anzi la pochettina della madera eccola qua con dentro allora lo scrub oil to milk l'acqua micellare SOS instant monster radiance hydra mask quindi la loro maschera il loro nuovo full size contornocchi antifatica e antiossidante questo è in full size è proprio uscito da poco questo e poi c'è l'SOS hydra recharge cream quindi la crema sono da allora lo scrub 12 ml e mezzo l'acqua micellare da 50 la maschera da 12 e mezzo il contornocchi full size da 15 e la crema da 20 quindi comunque diciamo che secondo me sono quantità che vi danno la possibilità di provare bene o male i prodotti anche perché comunque i prodotti madera costano abbastanza quindi almeno una vorrebbe provarli e sono certificati ecocert i prodotti madera bene basta questa volta non ho superato i 100 euro quindi non c'era il prodotto maggio no ok basta questo era il breve spacchettamento nuvole blu ditemi se avete preso anche voi queste cosucce e come vi siete trovate perché sono molto curiosa vi saluto come al solito vi mando un mega bacio vi ricordo instagram trovate il contatto qua sotto mi raccomando aggiungetemi ciao ciao ciao